Anastasia Cusmina e Francisco Porcella non stanno più insieme dopo ballando con le stelle? Secondo il settimanale Spy sarebbe finita la storia d'amore tra Anastasia Cusmina e Francisco Porcella. Il condizionale è d'obbligo perché al momento i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Si sono lasciati davvero o magari c'è solo aria di crisi? Di sicuro la ballerina e il surfista non appaiono più insieme da qualche mese. È vero che sono sempre stati riservati ma dopo la fine di ballando con le stelle avevano deciso di amarsi alla luce del sole. Eppure ad oggi le foto sui social network la attitano, così come quelle dei paparazzi. Insomma, della coppia non c'è più traccia cosa è successo ad Anastasia e Francisco? Francisco Porcella ha lasciato Anastasia dopo Pechino Express. A quanto pare tutto sarebbe accaduto dopo il rientro di Francisco Porcella dall'Africa, dove ha preso parte a Pechino Express in coppia con l'attore Andrea Montovori. Proprio Anastasia, che ha partecipato al programma di Rai due anni fa, ha spinto il sardo a partire senza troppe amore. Punto perché la Cusmina si sarebbe allontanata dallo sportivo? Forse per via dei numerosi impegni di lavoro che portano entrambi in giro per il mondo? Anastasia Cusmina e gli amori a Ballando con le stelle Francisco Porcella non è il primo concorrente di Ballando con le stelle che si innamora dell'insegnante Anastasia Cusmina. Prima di lui anche il giudoca Fabio Basile non ha saputo resistere al fascino della bella Ucraina. Pure in quel caso, però, la storia è durata solo una manciata di mesi.